E' bello a tutti GTR, sono Samu e benvenuti in questo nuovissimo video, c'è un video più corto perché voglio far vedere come funziona qua, perché sto installando Fortnite, poi farò un gameplay dopo quando sarà più pronto, vi farò vedere tutto come gioco, vabbè, c'è la GTR e ci vediamo al prossimo video.